Buongiorno e ben ritrovati. Sono Argentieri Niki dell'immobiliare Luxor di Missaglia. Oggi ci ritroviamo a Missaglia, nella frazione di Barriano, a solo 500 metri dalla piazza centrale del paese. Ci troviamo in una situazione cordilizio, completamente risultato nel 2006 da Ionza. Siamo in classe G e il prezzo è di 66.000 euro. Ci ritroviamo all'interno dell'appartamento. È una soluzione molto particolare. Si tratta di un monolocale con un particolarissimo sopparco. Qui sotto ritroviamo quella che è la zona giorno con il bagno, mentre la zona notte resta proprio sul sopparco. Ha delle rifiniture molto particolari, tra via visti in legno, finiture moderne. E ci ritroviamo, come dicevo prima, in un contesto cordilizio, senza spese condominali. Il bagno è stato completamente risturato, solamente tre anni fa, con materiali innovativi e moderne. Ci ritroviamo con una box doccia molto grande, il lavandino, il WC e il bidet. La camera da letto si trova su questo simpatico sopparco in legno. Viene consegnato completamente con gli arredi, di cui il letto, questo armadio fatto su misuro e una cassettiera. Spero che la soluzione vi è piaciuta, contattateci per prendere visione di questo immobile.